segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te una ciclista scomparso mercoledì scorso il 30 novembre lui si chiamava davide rebellin è morto investito da un tir mentre faceva quello che amava di più fare e cioè andava in bicicletta l'autista lo dico a chi ci segue da casa non si è nemmeno fermato è stato poi rintracciato e si tratta di un camionista tedesco verso il quale adesso l'italia ha chiesto un mandato di arresto europeo e il nostro oggi non vuole essere soltanto un ricordo ma anche una denuncia perché insieme a bugno vorremmo denunciare proprio il pericolo che ogni giorno vivono i ciclisti campioni e non campioni che percorrono le strade italiane guardiamo insieme una clip arrivo da lei poi gianni la clip è di emilio torsello io sono un vicentino quindi di origini perciò è bello correre tra le strade di casa e in quei percorsi dove mi sono allenato già da piccolo eccolo ho iniziato i primi colpi di pedale ma davide rebellin che ha vinto tra le altre tre edizioni del frecciavallone e una tappa del giro d'italia proprio su quelle strade ha perso la vita a 51 anni il 30 novembre scorso travolto da un camion pirata che l'italia non sia un paese per le biciclette lo dicono anche i 103 ciclisti morti sulle nostre strade nei primi otto mesi dell'anno uno ogni 35 ore secondo i dati dell'osservatorio dell'associazione sostenitori e amici della pol strada così come per ora risultano definanziati anche i 94 milioni previsti per le ciclabili allora poi arriviamo a questi numeri terribili no però prima chiedo a gianni bugno di aiutarmi a raccontare chi era davide intanto quando l'ha incontrato l'ultima volta domenica scorsa eravamo lì alla ultima gara che poi gli ho partecipato un giorno a monte carlo c'era poi il seminario della federazione internazionale e lui era lì a gareggiare quindi diciamo l'ho visto proprio di recente davide davide è un ragazzo che amava la bicicletta amava questo sport tanto che ha chiuso praticamente la sua vita in bicicletta quest'anno aveva deciso di smettere di dedicarsi ad altro ma purtroppo in tempo senta gianni me lo dice come vi siete conosciuti quanto tempo fa cioè che amicizia è stata la vostra sale più di 35 anni fa e praticamente passato nella squadra a cui partenevo anch'io abbiamo fatto un anno assieme lui aveva poco più di 22 23 anni e dopo lui ha continuato su carriera e smess 98 qualche giorno fa un quotidiano la stampa credo titolava non è un paese per bici è così il nostro non è un paese per bici non è un paese per bici no diciamo che non riusciamo a convivere col traffico quello sicuramente non è poi la soluzione non c'è una soluzione in questo momento ma ci vuole solo educazione e non ma supportazione come ci vede spesso in giro alessio si aggiungono numeri e numeri si questa è una un'agenzia che è arrivata poco fa un uomo è stato travolto e ucciso a castel volturno nel casertano mentre era in bici da un auto in questo caso il conducente si è fermato allertando i soccorsi ci sono dei particolari che meglio tralasciare a quest'ora i bambini stanno ascoltando comunque è stato piuttosto cruenta la dinamica che ha portato alla morte di questo giovane uomo e gianni i ciclisti continuano a morire secondo l'asaps l'associazione sostenitori e amici della polizia stradale tra gennaio ed agosto di quest'anno sarebbero morti già 103 direi 104 con la persona di cui parlava alessio adesso e poi a questi numeri vanno aggiunti quelli che muoiono dopo in ospedale quindi che rimangono feriti e poi non ce la fanno e lei diceva malsopportazione cioè ciclisti vengono sopportati male bisogna imparare una convivenza però io intanto le chiedo c'è un dato che è relativo all'educazione e poi ci torniamo ma c'è anche un dato relativo non so alle piste ciclabili cioè a quanto poi le strade siano sicure o insicure per i ciclisti? Le piste ciclabili da noi sono ciclopedonali quindi sulle strade ciclabili possono andare sia le biciclette che i pedoni diciamo che le biciclette diventerebbero un problema per i pedoni anche perché non c'è l'educazione da parte di nessuno di come interpretare questi ciclopedonali dovrebbe essere fatto maggiore educazione nelle scuole insegnare ai giovani che poi saranno il nostro futuro il nostro futuro a utilizzare meglio quello che è la strada fare le piste ciclopedonali tante volte non serve a diminuire i problemi perché la bicicletta diventa un problema per i pedoni sul ciclopedonale è un problema sulla strada perché sulla strada dopo non potrebbe più stare la bicicletta anche quelle assistite di oggi vanno a circa 30 km all'ora prendere un vestire un pedone magari anche un bambino piccolo a questa velocità quella velocità farà sicuramente creare di danni quindi la ciclabile non è una soluzione quindi neanche la ciclabile è una soluzione ma come siamo messi rispetto agli altri paesi alessio sulle ciclabili siamo messi male perché è uscita una classifica il rapporto clean cities legambiente chioto club le città più amiche dei ciclisti ovviamente in proporzione alla popolazione c'è una città belga al primo posto noi la conosciamo come gand in lingua locale ghent 20,2 chilometri di piste ciclabili ogni 10.000 abitanti poi Helsinki state vedendo monaco di baviera la prima in milano con appena due la prima italiana ovviamente chiudono roma napoli o dopo di che gianni lei dice però quello non è la soluzione ma anche negli altri paesi le ciclabili sono ciclopedonali sono ciclabili i pedoni non invadono la sede delle biciclette c'è maggior rispetto sono sedi stradali più larghe però non in realtà diversi paesi all'estero sono paesi più ampi hanno uno sviluppo architettonico diverso più moderno rispetto al nostro mentre noi abbiamo l'estate sono sempre rimaste sempre quelle le macchine sono aumentate le biciclette sono aumentate e quindi ci deve essere una maggiore educazione per poter convivere sullo stesso percorso finché non si troverà una vera soluzione cioè se capisco bene lei dice le nostre città proprio per come suono e penso anche a molti centri storici eccetera o comunque città storiche che hanno una conformazione tale per cui su quelle strade tu non hai proprio lo spazio fisico per costruire la ciclabile allora lei dice lì il punto non è tanto fare la ciclabile tanto non si potrà fare ma è imparare a convivere qual è il punto che per gli automobilisti i ciclisti sono semplicemente un disturbo vengono percepiti come un fastidio sono probabilmente un disturbo perché rallentano il traffico generalmente non c'è neanche l'educazione da superare oggi parte le macchie perché se ma le macchine trovano un corridore da solo schiorano sempre il corrido e tendono a sperare di non invadere la sede della stella sede strada dall'altra parte quando i corridori sono in gruppo sono diciamo tra virgolette più sicuri perché l'autonomia dietro all'era certo è costretto a rallentare discussione però dopo nascono le discussioni perché ci sono in mezzo alla strada perché la macchina è passata e tutto quanto e quello che dicevo c'è una maggiore educazione una maggiore sopportazione una sopportazione ma la giura educazione ultimamente sono andato alle canarie e lì ho notato la nonostante i percorsi siano strane normali strade anche strette diciamo il rispetto c'è molto rispetto nel confronto di dcp sia nel canale che in spagna quindi perché secondo lei il dato è culturale quindi sì c'è una maggiore educazione le scuole c'è una maggiore educazione verso gli automobilisti e c'era il famoso metro e mezzo a cui devono sopportare sopportare le macchine i corridori hanno maggior rispetto una maggiore con una cultura diversa rispetto alla nostra e alessio la politica ci ha messo il suo sulla questione delle biciclette ultimamente manovra del governo 94 milioni sono stati cancellati sarebbero stati destinati al fondo per la ciclabilità ovvero per realizzare le piste ciclabili 30 chilometri all'ora prego era conte due che si è preferito recuperare questi soldi quelli che state vedendo per coprire altre voci di spesa e allora noi siamo una trasmissione come spero lei sappia nel senso che spero che ci segua diciamo e ci occupiamo di politica tutti i giorni ospitiamo spesso dei politici mi aiuta a individuare anche le richieste da fare alla politica da questo punto di vista io guardo quel numero 103 persone morte da gennaio ad agosto di quest'anno sulla strada semplicemente perché si muovevano in bicicletta e mi sembra un numero inaccettabile oggi peraltro sappiamo che c'è stata un'altra vittima allora esiste un suggerimento che possiamo dare ai nostri politici come può migliorare la situazione al di là del ripeto del dato culturale è l'unica cosa con l'educazione educazione nelle scuole insegnare il codice stradale nelle scuole ai ragazzi agli ragazzini e poi migliorare un po quella che la nostra realtà questo serve un consiglio poi cambierà magari codici sulla strada su certe su certi discorsi come quella del metro e mezzo cosa già accolto in altri paesi mentre in italia è stata non è stata ancora accettata voglio chiudere leggendo il tweet di giorgia meloni su re bellino voglio chiudere da dove abbiamo cominciato userò le parole di giorgia meloni sono turbata e rattristata dalla notizia della tragica scomparsa di davide rebellin ciclista italiano che tanta emozione ha regalato agli amanti dallo sport nella sua lunga carriera da professionista conclusasi lo scorso 16 ottobre a 51 anni condoglianze alla famiglia ci uniamo a queste condoglianze grazie grazie a gianni bugno è stato un piacere grazie davvero noi ci vediamo domani grazie a tutti